Questa volta ci siamo concentrati sui giovani che hanno la necessità di trovare un lavoro, ma anche giovani studenti o giovani che sono alle prime esperienze di lavoro. E quindi abbiamo pensato per loro a un'iniziativa, Workshop Giovani, che avrà luogo il 24 marzo alle ore 17 al Tag Hotel. In quell'occasione, infatti, presenteremo tre corsi di formazione. L'inglese commerciale, sviluppo e capacità relazionali, verterà proprio su un'analisi delle proprie competenze e soprattutto la capacità poi di saperle comunicare, soprattutto in ambito professionale, quindi dal colloquio di lavoro, ma anche ai tanti momenti della vita lavorativa. E si concentrerà soprattutto sulla parte, diciamo, offline. Mentre il terzo percorso, infatti potrebbero anche essere visti come, diciamo, un continuum, Il terzo percorso è personal branding, invece si concentrerà più sul discorso dell'online, quindi la propria reputazione professionale online, come riuscire attraverso anche i social network a trovare lavoro o a trovare delle collaborazioni professionali. Aspettiamo tutti i giovani interessati, è importante però registrarsi e trovate tutte le informazioni sul sito www.bccdifano.it www.bccdifano.it